Eh sì, è molto facile. Ma allora... Stai tranquilla, con me non attacca. Alberto, mi raccomando. Stai tranquilla, ti dico. Scontata la pena, Pasquale Baudaffi ritrova vecchi amici e nuove amiche. Non sembra provocante? Vecchie abitudini e nuove manie, ma non trova un lavoro. Troppo brutto. Troppo grasso. Troppo sporco. Grazie. Eppure ce la mette tutta e ha moltissime qualità. La mia cultura, la mia indelicenza. Vieni avanti, cretino. Vieni avanti, cretino. Venerdì alle 20.30 su Italia 1. Mamma, questa macchia di caffè non è proprio venuta via. Ehi, colorati, sono così difficili. No, la mia felpa. Perché tu insisti con l'additivo di sempre. Ma ora c'è Ace Color. È l'additivo Ace. Laviamo due felpe macchiate di caffè con lo stesso detersivo ma additivi diversi. Per una usiamo Ace Color. Ace Color smacchia meglio perché attiva il lavaggio già a 40 gradi. Ehi, ma la macchia è sparita. E guarda che bianchi. Ace Color smacchia meglio senza danno ai colori. Oggi è arrivata Banca AmeriCard. Papà è contento perché tutti gli sorridono. Banca AmeriCard Visa. La carta internazionale con più negozi convenzionati in Italia. Anche la mamma è felice. Perché? Eh, l'ho inaugurata. Mi piace usarla. A lei ho preso il panda. Il panda! Con Banca AmeriCard Visa paghi dopo un mese e se vuoi anche a rate. Banca AmeriCard Visa. Praticamente più del denaro. Richiedila anche tu. Adesso esageriamo! Ssss! San Pellegrino che aranciato è esagerata Ogni bevuta la potestima risata va Con le bambalicine La festa è sicurata San Pellegrino che aranciato è esagerata San Pellegrino che aranciato è esagerata Ehi, cosa fate? Impariamo giocando Sì, con Esplorando il corpo umano puoi scoprire come è fatto e come funziona il nostro corpo I simpatici personaggi di Esplorando il corpo umano ti accompagnano in questo fantastico viaggio Andiamo! E in più c'è un vero modello anatomico da costruire In edicola Esplorando il corpo umano Con il primo volume, la prima parte del modellino Una proposta di Agostini a MZ Che bello! Imparare giocando! Dico? Oh! E che... E' meglio, è nuova